Ciao a tutti e a tutte, sono Caterina, siamo ancora qui alla Scuola Holden. Siamo qui con Lorella Boccalini, consulente del Centro Psicopedagogico per l'Educazione e la Gestione dei Conflitti. Ciao Lorella, benvenuta. Ciao, grazie, buongiorno a tutti. In questa giornata, in questo convegno, ognuno delle realtà sta portando un po' la propria esperienza, il proprio punto di vista. Tu che ti occupi di conflitti quotidianamente con il tuo lavoro, ci sai dire come il conflitto e l'autonomia influiscono proprio sulla crescita e sui percorsi delle ragazze e dei ragazzi? Allora, sì, beh, diciamo che c'entra moltissimo la parola conflitto con la parola autonomia per due motivi. Il primo motivo è quello, diciamo, più educativo. L'obiettivo dell'educazione è l'autonomia e autonomia vuol dire staccarsi e riuscire a mettersi dentro di sé la capacità di fare delle cose, che non è solo allacciarsi le scarpe, prendere un tram, eccetera, ma anche stare in relazione con gli altri, anche nelle situazioni di contrarietà. Quindi, essere autonomi, diventare grandi in modo autonomo, significa anche sapersi relazionare nel mondo con gli altri, con la diversità, e ognuno di noi è diverso dall'altro e dopo pochi minuti in cui la pensiamo nello stesso modo, sicuramente la si penserà in modo diverso, con la capacità di stare in quella contrarietà relazionale dove le emozioni non soffocano la relazione. Noi lavoriamo molto sull'aiutare i bambini a litigare bene, quindi a non negare che i bambini litigano per imparare a prendere le misure e quindi a imparare a gestire quelle emozioni che nelle situazioni di contrarietà spesso, ahimè, possono far commettere anche azioni violente. Quindi imparare a litigare e a stare nel conflitto come antidoto alla violenza anche e soprattutto per i ragazzi. E la seconda questione legata al conflitto è che l'educazione è una questione di conflitto. La posizione dell'adulto entra in conflitto con la richiesta e l'immaturità dei ragazzi. Quindi l'adulto, diciamo così, che sa che non c'è un piano B rispetto al fare il suo lavoro di educatore, mette dei confini, degli argini, soprattutto fa sperimentare, ha fiducia, si sintonizza con l'età a fiducia, fa sperimentare, ma appunto mette anche confini e argini e questo apre un piano di, come dire, dialettica conflittuale tra vari codici, varie posizioni, varie esigenze, eccetera. Quindi la parola conflitto non deve far paura, fa parte delle relazioni. Dobbiamo tutti imparare a stare nel conflitto con gli altri per evitare di starci con violenza. Perfetto, cercheremo anche noi, un po' più adulti, a seguire questo tuo consiglio, questa tua riflessione. Non è sempre molto facile, molto semplice. Ti ringraziamo, buona giornata, grazie a voi, grazie a te. Buon lavoro a te. Grazie, buon lavoro a tutti. Grazie a tutti.